Ancora scafisti, manette sulle coste siciliane. Quattro sono stati fermati a Siracusa, identificati dai migranti che avevano portato a terra. Uno è stato arrestato a Catania, riconosciuto grazie al telefono satellitare che ha usato durante la traversata. Altri due a Pozzallo, identificati grazie a un video girato col telefonino da uno dei migranti.